la famosa goccia di gara oggetto di design eccezionale sarà un piacere lavorare su questo volume l'idea è quella di riprodurre la grafica che stiamo usando per il moto mondiale la comunicazione moto mondiale una grafica fluida che si adatterà perfettamente a queste a queste linee è una cosa racing moda iola anche con un sacco di colore fumo bello